L'incontro è stato molto utile, positivo, nel senso che il sindaco e il capigruppo ci hanno illustrato il documento approvato dal Consiglio Comunale, e quali sono le problematiche poste da Pisa e credo che abbiano anche una motivazione assai ben motivata. Il punto è che qui siamo di fronte ad un provvedimento che tra l'altro sta generando molte situazioni di conflittualità in tante regioni italiane e in molte parti d'Italia. Si tratta di un provvedimento che ha dei limiti soprattutto nei criteri che generano questi elementi di discussione e di difficoltà a attuare quelle previsioni. Io credo che si tratti oggi di dover intervenire partendo proprio da queste situazioni di conflittualità, ma anche da proposte positive per cercare di riaprire uno spazio per ridefinire, rivedere i criteri che sono nella legge della spending review per quanto riguarda la riorganizzazione delle province. Siccome la motivazione di fondo è una motivazione di semplificazione, questa deve seguire innanzitutto un criterio di funzioni, di che cosa deve fare un ente intermedio tra la regione e i comuni e quindi attraverso anche quali dimensioni può sviluppare meglio queste funzioni. La Toscana può dare un contributo importante perché l'idea e i progetti delle aree vaste, come ha proposto anche Rossi, tre in Toscana, hanno già come dire un retroterra di elaborazione, di proposte, di pianificazione importante, ma anche di esperienze concrete di gestione, di problematiche importanti in campo sanitario e non solo sanitario. Penso che se la Toscana riesce a mettere in campo una proposta efficace sulle aree vaste, questa possa essere utile anche a spingere il governo a riaprire la partita anche sul piano dei criteri.